Giacomo Pascale, Procida è capitale della cultura. Prima di entrare nel vivo del progetto a cui state lavorando, l'Acquameno è uno di quei comuni che ha sostenuto da subito e anche con iniziative importanti gli amici di Procida. Sì, innanzitutto mi è gradita l'occasione che mi fornite per fare sinceri complimenti, formulare sinceri complimenti all'amico sindaco di Procida, Dino Ambrosino, alla sua amministrazione comunale, alla regione Campania, quanti hanno condiviso con lui questo sogno collettivo, questo sogno di vedere Procida capitale della cultura del 2022. È un'occasione straordinaria non solo per l'isola di Procida, ma soprattutto anche per Ischia, per Capri, per tutta la zona africa e per l'intera regione Campania. È stato fatto un lavoro eccezionale, la proposta progettuale illustrata presso il Ministero a Roma ha avuto grossi consensi fino ad avere poi la scelta, a far ricadere la scelta su Procida e questa è una grossa occasione anche per tutte le isole minori d'Italia. A proposito di occasioni, sindaco, in serata avete annunciato quello che lei definisce un sogno, ma che poi sostanzialmente ha tutti gli effetti un tentativo di creare una rete di collaborazione e dal punto di vista culturale, quindi mettendo insieme tutti quelli che sono i siti presenti sui vari territori, sia dal punto di vista dei collegamenti, quindi dei trasporti. Procida, l'Acquameno, Forio, Bacoli, a cosa state lavorando? Noi stavamo lavorando a questo che definiamo sogno con Ciosi della Ragione, con Dino Ambrosino e con Francesco Del Deo, al netto della nomina di Procida capitale della cultura. In buona sostanza noi constatiamo che queste località hanno dei siti di grosso interesse sotto l'aspetto culturale, ma che soprattutto per quanto riguarda l'area Flegrea il grosso, grande e unico problema sono i trasporti per arrivarci. E quindi con Ciosi della Ragione, con Dino Ambrosino e con Del Deo noi sottoscriveremo un protocollo d'intesa dove chiediamo alla Regione Campania che in via ufficiosa ha già manifestato l'interesse, devo ringraziare il Presidente De Luca e il Vice Presidente Onorevole Fulvio Bonapitacola, per poterci vedere accordata l'aiuto istituzionale ed economico all'istituzione di una linea di navigazione che deve partire dal pontile di Torre Cale da collegare Procida con sbarco all'Acquameno. È evidente che sbarcare all'Acquameno poi significa di contro sbarcare sull'isola Dischia e quindi mettere in rete questi siti di interesse, non so, penso di L'Arbusto, gli scavi di Santa Restituta, con il Castello di Baia, con la Casina Pabiteriana, con i gioielli che esistono nell'area frecrea, con quelle che esistono a Procida e con la Colombaia, con i Giardini della Mortella, con il Torione di Forio, insomma, incominciare ad avere una linea che noi immaginiamo possa essere la linea della cultura, cioè praticamente un collegamento che ci consente di offrire a turisti e residenti la messa in rete, la valorizzazione prima, immagine, e la messa in rete di questi siti di grosso interesse che oggi sono abbandonati, ma soprattutto per raggiungere in alcune zone veramente disacevoli. Questo è un sogno, nel senso che noi vediamo tutti e quattro i sindaci, condividiamo una visione comune, quella di riuscire concretamente a dimostrare che noi vediamo il mare come una risorsa, come un qualcosa, non che ci divide ma che ci unisce. Quindi proviamo a fare rete. Può essere questa l'occasione per destagionalizzare, Sindaco, per esempio, ciò che manca alle altre realtà sono le famose terme. Ecco, forse questa può essere l'occasione per dare un punto d'appoggio a Ischia importante come soggiorno, come cure termali e poi mettere in rete tutti i siti archeologici delle varie comunità. Beh, noi riteniamo che può essere, se realizzata, può essere tanta roba insieme, perché è chiaro che questi siti, innanzitutto, il settore dei beni culturali all'interno del mercato turistico è una nicchia in costante crescita e quindi è quando mai opportuno puntare sulla valorizzazione e la messa in rete dei beni culturali. Dopodiché è chiaro che abbiamo anche delle attività, come dire, complementari, noi abbiamo i posti letti e Bacoli No, per esempio, noi abbiamo le terme e ce l'ha anche Bacoli, loro hanno il parco sommerso di Baia che è stupendo e da visitare e quindi l'occasione di trasportare i turisti in modo più facile è importante. Dopodiché abbiamo, per esempio, il collegamento, lei sa che quando andiamo in crisi con l'ospedale il primo trasferimento viene operato alla schiana di Pozzuoli, voi immaginate un battello che ci porta a Torrecave, da quanto disagio si evita ai nostri cittadini che si devono trasferire all'ospedale.